Kate Middleton è riapparsa per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio della diagnosi di cancro, in occasione dell'evento Trooping the Color, che celebra il compleanno del re. A marzo la principessa del Gales aveva annunciato di essere in cura per una forma non specificata di cancro e si era ritirata dalla vita pubblica. Venerdì la moglie del principe William ha dichiarato di aver fatto buoni progressi nel trattamento, ma non è ancora fuori pericolo. Presente all'evento è anche Riccardo III, un monarca in cura per una forma di cancro non specificata.